Luisa che portaste? Che stai facendo? Ma perchè lo tagli? No, è troppo piccolo su Zitto! Ma che cazzo fanno? Ci sono grandi porzioni Ma che fai? A quattro deve tagliare? Sì, a otto! No, stai a donna No! A bia bia Sì, ci piace Ma non cazzo Signora, ma scusate Luisa, a quattro deve tagliare? Sì, a otto! A otto, che fai dopo? Ma tu non capisci che sto cazzo? L'ho a mettere un zemino stanotte Ah! E io che mangio? Eh... Vedi che c'è un caffè, non dormo stasera a Doco Non bruciare, lo vedi? No, Marco! Ora, Mario Luisa, non lo darò il piatto Così, come si trova dovrà entrare Ma non lo scopriare Ma non lo scopriare Ma che te lo scopriare? Dove non lo scopriare E' una nuova si casa E' una nuova si casa Ma sta a Doco E' una nuova si casa Ma sta lanciando il coraggio Grazie a tutti.